usciti da perugia verso nord e imboccata la statale tre bis e non la superstrada per cesena fare attenzione dopo l'abitato di le pulci ci si trova a un bivio si deve girare a destra in direzione di monte labate poco prima delle case di questa località su un poggio a dominio quasi del paese si vede la grandiosa chiesa romanico gotica di santa maria terminata nel 1325 ma risalente con tutta probabilità alla prima metà del nono secolo faceva parte di un'abbazia un tempo molto florida e con molte proprietà ma che decadde proprio nel 1300 tuttavia gli ultimi monaci che viebbero residenza l'abbandonarono soltanto nel 1860 la chiesa è contraddistinta da una facciata con grande rosone da poderosi contrafforti mentre il campanile è stato ridotto di altezza anche se si trattava di una costruzione del 1269 la visita oltre all'interno dell'edificio religioso può essere estesa al bel chiostro duecentesco e alla sala del capitolo in cui si trova un affresco di scuola umbra del 200 con una interessante crocifissione la cripta della chiesa originale quella del nono secolo è accessibile di qui si noterà che in buono stato di conservazione all'interno dell'edificio all'interno dell'edificio